L'importante in queste partite è di continuare la strada che abbiamo presa perché è buona, positiva, perciò cerchiamo sicuramente il risultato positivo e magari possiamo portare via tre punti importantissimi. Ci vuole continuità, come ho detto, e i conti si fanno alla fine, perciò stiamo lavorando, lavorando bene e vediamo anche tanto miglioramento che fa sicuramente piacere, il lavoro del mista frutta, perciò siamo convinti anche di fare bene fino alla fine. Con l'excesso servono tre punti anche per la classifica di Europa League, perché bisogna aumentare il ritmo, è una partita importante per la Juve e speciale anche per te perché torni a casa. Sì, sicuramente qualche emozione in più ci sono, però sì, sono da tanto in questo lavoro, perciò so bene di gestire di tutto e anche dell'importanza della partita, perché per noi contano i punti e quello ti dà anche una partita, per me, un po' più emozionante, ma alla fine conta tre punti. Tu conosci bene Salzburgo, che tipo di squadra è? Una squadra pericolosa o quali sono i punti deboli? No, sicuramente sono una squadra molto organizzata, un staff tecnico, una società fortissima, magari sono un po' indietro ora con i risultati, perché sono partiti mali quest'anno, sinceramente, però vuol dire alla giornata loro ci sono, sicuro, perché è una partita molto importante anche per loro, lo stadio, lo staff, la società punta tanto sull'Europa, perciò sarà difficilissimo perché la squadra hanno, sicuro. Senti, le sconfitte in Champions League di Milan e Roma, soprattutto per come sono arrivate, ti fanno pensare che forse in Italia, insomma, siate quasi a quel livello, insomma, ve la possiate giocare anche fino all'ultimo con le grandi? Eh, sicuramente sì, perché abbiamo iniziato di creare ancora una squadra importante, però per diventare molto competitivi deve passare anche di queste squadre lì, come domani. Allora, un'ultima cosa, il gruppo...